Ciao a tutti amici Embryverse e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come ho brassato una Foreign Extra Stout, uno stile che si pone idealmente a metra strada tra una Irish Stout e una Russian Imperial Stout, quest'ultimo uno stile che come sapete mi appassiona molto, ma soprattutto di questi tempi è un po' difficile da bere senza sudare come dei caproni e quindi ho pensato per una volta di non fare una tamarrata. Per quanto riguarda il Grist ho usato il 78% di Extra Pale Ale della Pulse e questo è stato un primo strappo alla regola perché di solito uso Pilsner Dingemans, ma ero troppo curioso di provare questa nuova, tra virgolette, marca di Malti. Il resto del Grist era composto dall'8% di carafa e fiocchi d'avena e un 6% di Special B. Veniamo adesso al primo dei due acquisti compulsivi che ho fatto per lo Sgabuzen, ovvero un sacco di Lolla da 15 kg. Nel catalogo di Mr. Malter è indicato come 0,2 metri cubi e non mi sono fermato minimamente a riflettere su quanti fossero 200 litri di Lolla e l'ho scoperto solo dopo aver aperto lo scatolo. Tornando indietro non la ricomprerei perché mi ha creato un problema di stoccaggio enorme. In compenso farò birre ancora più limpide dato che ne sto usando almeno mezzo chilo per cotta, per cercare di finirle il prima possibile. Per quanto riguarda i sali, ho progettato un profilo che favorisse i cloruri rispetto ai solfati, alzando anche la concentrazione degli ioni sodio, utilizzando comunissimo sale da cucina. Il sodio aiuta ancora di più a far emergere una pienezza di gusto che nelle stout è proprio quello che cerchiamo. Grazie. Questo, ragazzi, è l'ultimo acquisto compulsivo, un rifrattometro digitale. Lo desideravo da quando facevo EPUG e avevo sempre evitato di acquistarlo perché pensavo fosse uno sfizio evitabile, ma alla fine non sono riuscito a resistere. Il funzionamento è semplicissimo. Si calibra la lettura con della semplice acqua distillata e poi si è pronti per misurare il mosto. Questo modello in particolare della Milwaukee, la stessa del pH-metro, ha tre scale ed è ancora più comodo da usare. Lui è Vito, un home brewer pieno di sogni e aspirazioni che, iscrivendosi a Patreon, pensava di accrescere le proprie conoscenze e invece si è ritrovato a pulire vetrine frigo. Se anche voi volete entrare a far parte di questa community ed essere solidali col povero Vito, allora seguite il link in descrizione. Anche perché resta il freezer da pulire. Grazie. 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 Grazie.